Aveva acquistato tramite Facebook un gioco di prestigio per la levitazione che aveva pagato 2.500 euro. Il venditore, dopo un primo bonifico, ne aveva chiesti altri, fino a che l'acquirente, un varzese, aveva capito di essere finito nelle mani di un truffatore e aveva denunciato ai carabinieri di Varzo quanto stava accadendo. I militari hanno seguito il flusso di denaro fino a giungere a un 65enne della provincia di Siracusa, già con precedenti, e lo hanno denunciato per truffa. I carabinieri della stazione di Premosello, invece, hanno denunciato un 32enne campano in seguito alla denuncia presentata da un cittadino di Vogonia. Quest'ultimo aveva ricevuto un messaggio che confermava il blocco della sua poste pay ed era stato contattato da un sedicente operatore delle poste che lo invitava a effettuare una serie di operazioni per sbloccare la carta. In realtà, quelle operazioni hanno permesso al truffatore di impossessarsi di oltre 800 euro. I carabinieri della stazione di Bagno Anzino, infine, hanno denunciato per truffa un 47enne della provincia di Messina a seguito della denuncia sporta da un residente della bassa Ossola, che aveva versato 350 euro per l'acquisto di pneumatici invernali a un fantomatico venditore trovato sulla piattaforma Marketplace di Facebook. La vittima, dopo un primo versamento di 300 euro, si era visto richiedere ulteriori 50 euro per problemi sulla spedizione. All'ennesima richiesta di denaro, però intuita la truffa subita, l'uomo si era rivolto ai carabinieri. Una seconda indagine, avviata dopo la denuncia di un cittadino di Bagno Anzino, ha portato la denuncia in stato di libertà di due cittadini pugliesi di 37-38 anni, già noti alle forze dell'ordine, per reati contro il patrimonio. In particolare, la vittima aveva tentato di acquistare tramite la piattaforma Facebook un macchinario agricolo, un motocoltivatore, versando quattro bonifici per un importo complessivo di 1.500 euro circa ai due truffatori che, subito dopo, si erano resi irreperibili. Gli accertamenti successivi dei carabinieri hanno consentito di identificarli.